e sta già riprendendo vero Iaco si va ragazzi allora da qua c'è ancora 5 minuti una cosa importante noi mangiamo qui e le moto sono io a vista se non mi da il piatto abbondante la picchio la picchio se non mi da il piatto abbondante grazie a tutti 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 grazie a tutti